Ultimo appuntamento con l'informazione di Florence Multimedia sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera ad Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud e due chilometri di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Si ricorda inoltre che stanotte in orario 22 seri mi ha racchiuso il tratto tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in entrambe le direzioni. In A11 a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo alla PPLI dove a causa di lavori si segnalano tre chilometri di coda tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno due chilometri in direzione Firenze. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!